Cari saluti a tutti, parliamo della regione Veneto, che ha una superficie superiore ai 18.000 km2, di cui oltre il 55% pianura, circa il 30% montagna e circa il 15% collina. La popolazione è superiore ai 4.800.000 abitanti. I confini a ovest Lombardia e Trentino Alto Adige, a nord Trentino e Austria, a est Friuli Venezia Giulia e Mar Adriatico, a sud Emilia Romagna. Il capoluogo di regione è Venezia, con circa 250.000 abitanti. I capoluoghi di provincia sono Belluno, Padova, Rovigo, Treviso. Passiamo alla geografia fisica. Il Veneto comprende gran parte delle Dolomiti, che sono montagne. L'altopiano di Asiago è vasto quasi 880 km2, mentre il monte più alto è il massiccio della Marmolada, che supera i 3.300 metri. Fra i numerosi passi montani, ricordiamo quello di Giao e quello di Valparola. Tra i fiumi, oltre al Po, che per oltre 50 km percorre la regione, abbiamo l'Adige, 410 km, il Piave, 230 km, il Brenta, 170 km e il Tagliamento, anch'esso intorno ai 170 km. Oltre al lago di Garda, che è esteso quasi 370 km quadrati, laghi minori sono quelli di Misurina, Santa Croce e Revina. Il clima va dal freddo al Mediterraneo ed è tra i più variegati del continente europeo. La geografia economica. Il Veneto è tra le regioni più ricche d'Italia. L'agricoltura, e l'allevamento sono meccanizzati. Il polo chimico è sviluppato anche se a rischio di chiusura per via dell'inquinamento. Nel terziario prevale il turismo, con oltre 70 milioni di visite all'anno. Per questa lezione è tutto. Grazie. Grazie.